Un momento speciale di preghiera e raccoglimento. A Torre del Greco la commemorazione dei defunti è sempre una ricorrenza molto attesa e grande l'affluenza di persone anche nei giorni che procedono il ponte Donissanti. I torresi sono per lo più concordi nell'affermare che le condizioni del cimitero sono ottimali segnalando tuttavia qualche disagio ed eventuali migliorie da apportare nell'ottica di una cura sempre maggiore di quello che è il luogo sacro per eccellenza. Li abbiamo ascoltati ai microfoni di TV City. Signora come sono le condizioni del cimitero di Torre del Greco? Per quanto riguarda me personalmente sono ottime insomma non c'è nulla anzi l'hanno ben organizzato, non c'è più tutta quella confusione, è molto bello, si prega anche. I sacerdoti si sono raccomandati di partecipare alla messa solenne del 2 di novembre. Lei parteciperà? Se d'altro perché hanno visto che prima c'era tanta gente e ora non c'è più nessuno. Dobbiamo dare un po' di spinta alla religione, solo con le preghiere riusciamo a sollevarci dai problemi che abbiamo tutti. Abbastanza pulito. La pulizia è migliorata? Sì è migliorata. Per le strade in un martedì d'Africa non ne parliamo. Perché sono sporci? Senza. Meno male che nel viale nostro c'è uno di colore che viene a pulire, lo chiamo quindi abbiamo il viale pulito ma se non lascia desiderare. Comunque a Torre del Greco è molto sentito il culto dei morti? Molto, molto. Forse più degli altri posti. Ma questa affluenza però si vede solamente per la commemorazione dei defunti? Io lo so perché io vengo sempre quindi per me non è un problema. Quindi sono anni. Questi giorni sono un momento speciale di preghiera? Particolare. Però l'importante è volersi bene nella vita. Poi tutto il resto è apparenza, diciamo la verità. Veramente sono ottime quest'anno. Sono pulite, non ci sta un caos, non ci sta tanto... si sta bene. A Torre è molto sentito il culto dei morti? Sì, veramente sì, è una tradizione. Però speriamo che i giovani aderiscono a questa usanza. Hanno esumato tutte quelle dombe che stavano per terra, poi ognuno si vuole far cremare quindi si è creato pure più spazio e si sta un po' meglio. Speriamo sempre il meglio. Com'è il cimitero? Come l'ha trovato quest'anno? Uguale agli altri anni, nessuna differenza. Più pulito? Come pulizia forse sì, però è uguale agli altri anni. Anzi è stato negativo il fatto che ieri stava chiuso il cimitero. Secondo lei questi nuovi orari vanno bene? Durante il periodo invernale sì, perché alle 4 è buio e quindi non ci sono problemi. Però d'estate, più col fresco uno scende al cimitero e quindi avrebbe fatto piacere, credo a tutti quanti, che fosse aperto anche il pomeriggio. La commemorazione dei defunti è un momento speciale di preghiera e raccoglimento? Eh insomma, diciamo, uno vorrebbe concentrarsi di più però... Vengono al cimitero tutti quelli che non vengono durante l'anno? Ecco appunto, perciò insomma si dovrebbe sensibilizzare un poco di più le persone che si regano al cimitero. C'è carenza. Soprattutto i giovani. Penso di sì. Si vedono tutte le persone anziane al cimitero, è difficile vedere la gioventù. Dobbiamo sorridere, il dolore. Tutti abbiamo i dolori. Eh, dobbiamo sorridere. In questi giorni si vede grandissima affluenza. Sì, sì. Io a volte vengo e il mio figlio non c'è quasi mai nessun uomo. Non fa niente. Forse sarebbe stato più utile se magari ci mettavano qualche addetto vicino, perché mi sembra... Per le scale, per salire. Ma chi conosce là? Mancanza di giri, mancanza di manodopera, piante che ti vengono addosso, insomma, sa parecchia roba. Per i nostri parenti che vivono lontano non è una bella cartolina di presenza per poter visitare. Perché? Perché? Perché basta guardare il cimitero. Papà e mamma hanno rubato i fiori, hanno rubato la croce. E' un'altra pecca del nostro comune. Poi c'è... sì. Non c'è organizzazione per... nella viabilità. Cioè, ci sono tante, tante cose che potrebbero essere risolte da anni e anni e anni, ma nessuno fa niente per il nostro cimitero. Perché secondo me è il luogo che dovrebbe essere curato di più. Perché è un luogo, una strada che dobbiamo arrivarci tutti. E quindi dovrebbe essere il primo luogo a cui il sindaco, l'amministrazione, sì, dovrebbe impiegarci più, proprio con amore dovrebbe fare... Più cura. Più cura, molto più cura. A volte uno vuole cambiare i fiori e le zone alte non si può raggiungere. Perché comunque ci sono le scale. Pulitissimo. E' più pulito il cimitero che magari la città fosse così pulita. I torresi per il cimitero ci hanno qualcosa di sacro, è sacro per loro. Ha qualche richiesta da fare come cittadino? Ci vuole la pulizia da parte del sindaco, però pure la popolazione deve collaborare, altrimenti... Nell'insieme è pulito, quindi non ci sono problemi. Questo è. Io però non scendo giù perché sto proprio all'inizio, quindi non... Altri disagi o criticità da segnalare, da evidenziare? Che molto spesso ci mancano i fiori o il poggio della luce, quindi non so se dipende dalla gente o dipende dalla... Qualcuno che le prende? Penso proprio di sì. Ci sono i sacchi rotti, hanno messo dei sacchi della spazzatura, però... E poi c'è l'inferriata dove sta il loculo di mio marito al secondo piano là, che si sta sbriciolando. Sono anni che io vado a chiedere, pitturate la prima che cadiamo giù noi e l'inferriata. E non lo fanno. Io ho detto tanto dalla disperazione, qualche giorno compro la pittura e li vengo a pitturare io. E si sta sbriciolando e nessuno fa niente. Glielo dica al sindaco, ci faccia vedere questo. Tanto lui mi conosce bene, perché ogni tanto mi lamento quando lo incontro.